capita a molti uomini di vivere questa situazione allarmante conoscono una donna inizialmente lei è presa entusiasta e coinvolta durante i primi appuntamenti o addirittura nella fase di conoscenza preliminare lei si lascia andare manifesta interesse e poi puff improvvisamente dopo alcuni scambi in chat o dopo il primo appuntamento o dopo qualche uscita o anche dopo il primo sesso lei perde improvvisamente interesse e se ne esce con frasi del tipo restiamo amici non sono pronta per una relazione non ho ancora risolto alcune cose del passato e non me la sento e frasi analoghe che ti fanno capire che te la sei giocata ma perché le donne fanno così e si può fare qualcosa per risolvere e ripristinare la relazione iniziale in questo video voglio spiegarti da donna perché le donne si comportano così e cosa puoi fare per stare meglio se magari non riesci a darti pace per averla persa se non mi conosci io sono daniela coin sono un'educatrice professionista specializzata nella crescita personale e relazionale maschile aiuto quindi gli uomini a stare meglio con se stessi e di conseguenza ad avere relazioni più belle e più sane con le donne partiamo col dire che le donne non fanno così perché sono pazze o cattive che sarebbe la spiegazione più facile però anche imbecille che una persona potrebbe trovare solo una persona che ha un'intelligenza limitata può dare una spiegazione così sbrigativa e se vogliamo anche offensiva a un processo che in realtà è sano e naturale e quindi cosa fa accusa senza cognizione di causa senza cercare di capire il processo e tu non sei questo tipo di persona no sì lo so magari ci sei rimasto male perché lei ti piaceva tanto o magari probabilmente non avevi una donna da tanto tempo o forse magari lei era proprio speciale ai tuoi occhi quindi capisco che tu ci sia rimasto male e lo capisco davvero però tesoro mio realmente puoi fare di meglio che puntare malamente il dito e infatti di meglio lo stai facendo no quindi ti faccio i complimenti perché ti stai mettendo in discussione vedendo questo video però adesso per piacere non mi deludere ti prego nei commenti dunque perché le donne fanno così ci sono cinque situazioni da illustrare e svariate spiegazioni per ognuna di esse e alla fine ti dirò anche cosa puoi fare per stare meglio e magari ribaltare la situazione prima primo caso la conosci online o magari la conosci appena dal vivo magari non so a una festa e vi scambiate i numeri e poi iniziate la comunicazione in chat e vi scrivete e magari all'inizio lei ti scrive anche e sembra interessata però prima ancora dell'appuntamento lei chiude la comunicazione o magari tentenna per uscire e infine o per un motivo o per un altro non vi vedete mai a questo comportamento ci sono tre spiegazioni sensate la prima è che magari tu abbia detto ho fatto qualcosa durante i vostri scambi che non le è piaciuto la seconda è che magari ha trovato un altro o forse ne aveva già un altro la terza è che non è mai stata interessata e magari ti ha dato il numero il contatto magari ti ha anche scritto risposto per educazione o perché non aveva niente da fare e attenzione lo dico adesso e vale per tutte le situazioni che ho spiegato e andrò a spiegare se una donna ti dice non sono pronta per una relazione restiamo amici significa che non le piace quindi questa opzione non l'andrò mai a menzionare se una donna piace ma davvero non è pronta per una relazione continua a frequentarti magari non si lancia del tutto nel rapporto però assolutamente mai ti proporrà un'amicizia o rischierà di perderti facendoti allontanare se invece ti allontana vuol dire che non le piace abbastanza oppure non ti ritiene idoneo alla relazione se per caso vuoi sapere quali sono i modi migliori per sedurre una donna in base alle qualità che cerca ti consiglio il video che ti metto qui sopra lo metto anche in descrizione te lo puoi vedere a fine video seconda situazione arrivi al primo appuntamento ci vai ti pare che sia andato tutto bene magari l'hai baciata o forse no e tra parentesi ti assicuro che non cambia assolutamente nulla se la baci o no perché sto bacio al primo appuntamento è sopravvalutato non è un game changing come si dice e quindi dopo questa bella prima uscita con bacio senza lei sparisce oppure ti dice gentilmente che non è interessata a te beh questo è sicuramente e inequivocabilmente un segnale che dice che dal vivo parlandoti e conoscendoti meglio non le sei piaciuto e i motivi possono essere diecimila magari hai un modo di fare antipatico per lei magari sei troppo ansioso chiuso invadente o troppo stupido o magari avete idee diverse o forse magari ti considera inadatto alla relazione che vuole secondo quello che lei desidera non in senso assoluto mi raccomando ricordati che l'opinione di questa donna non è assoluta se lei non ti apprezza magari ci sarà un'altra che potrà farlo per tentare di arginare le problematiche legate alle prime uscite prime fasi del rapporto dal primo appuntamento alla frequentazione nel mio store se vuoi trovi una masterclass completa di nove ore solo su questo argomento si chiama classroom early stages appunto e ti metto il link qui sotto in descrizione la terza situazione è quando uscita un po di volte ma quando provi a baciarla lei si nega indietreggia oppure ti bacia ma per concessione malvolentieri e concretamente lei non fa nessuna azione per venire vicino a te fisicamente intimamente e qui idem come punto 2 non le piace abbastanza non è attratta da te le piace come persona le piace parlare con te però fisicamente non c'è chimica magari non le piaci fisicamente ti ritiene brutto o forse quando le stai vicino non si sente coinvolta attratta comunque non c'è un interesse sessuale o sentimentale la quarta situazione è che invece vi baciate lei magari è coinvolta anche fisicamente faccia qualche preliminarino però niente sesso niente rapporto completo se tu provi ad andare oltre magari lei ti blocca ti dice no preferisco non proseguire in questo caso o non la trai fisicamente come ho già spiegato al punto precedente oppure per qualche ragione di principio religioso morale psicologico o anche di salute fisica lei non può concederti l'atto completo in questo caso è meglio parlarle per capire quale delle due opzioni sia quella reale e capire anche cosa fare insieme quinta e ultima situazione arrivate al sesso magari fate sesso una o più volte però dopo le prime volte che vi vedete avete rapporti lei si tira indietro blocca l'avanzamento di questa frequentazione e ti dice che potete restare amici o che addirittura non ti vuole più vedere e qui le opzioni sono due non le è piaciuto fare sesso con te magari hai uno stile diverso dal suo magari non le piace come sei nudo o forse magari è una questione di dimensioni o di difficoltà col sesso in generale e sempre in descrizione parentesi per capire meglio la questione del sesso e capire cosa puoi fare se pensi che questo ti riguardi ti lascio un link sulla masterclass classroom sex che affronta queste tematiche in profondità e ti porta soprattutto tante soluzioni ai problemi maschili più diffusi quindi prima opzione problema sessuale e la seconda possibilità è che magari il sesso non c'entri niente ma che semplicemente lei abbia perso interesse conoscendoti un po alla volta e qui mi dilungo un attimino perché parliamo di proiezioni e aspettative questa spiegazione può valere anche per altre situazioni flash che ho descritto prima però si ritrova molto più spesso nelle frequentazioni che durano magari qualche settimana o qualche mese quindi cosa accade parliamo di queste proiezioni devi sapere che tutti noi quando conosciamo qualcuno ci facciamo un'idea di quello che secondo le prime impressioni quella persona potrebbe essere e queste opinioni si formano per un'esigenza di sicurezza che hanno quasi tutti gli animali l'ho preciso per chi non lo sa che anche l'uomo fa parte del regno animale meglio dirle certe cose no gli animali devono capire velocemente se l'essere vivente col quale stanno interagendo possa essere un pericolo o meno per la loro sopravvivenza quindi hanno l'esigenza di farsi un'idea immediata anche se sommaria di chi hanno davanti cosa succede però nel caso degli esseri umani entrano in campo le simpatiche proiezioni cioè quella modalità inconscia che ci spinge a vedere nell'altra persona delle cose che appartengono a noi o cose che desideriamo e che decidiamo che quella persona magari ci possa dare facciamo un esempio magari tu stai cercando una donna dolce amorevole con la quale avere una relazione magari potresti vedere in una donna queste qualità selezionando solo dei comportamenti che ti portano a credere che lei sia così ed escludendo inconsciamente i segnali che ti dicono che magari magari ha un temperamento forte o aggressivo oppure potresti vedere in lei delle caratteristiche che ammiri e che vuoi sviluppare anche tu e stimarla più del dovuto vedendo solo questi aspetti bellissimi e tralasciando magari dei segnali di incompatibilità che magari ci sono e sono pure evidenti e cosa succede a questo punto conoscendo la persona pian piano dopo qualche settimana o qualche mese o se uno è poco sveglio anche dopo qualche anno l'incanto cade perché la persona si rivela per com'è in realtà lei è sempre stata così no però per quanto sia stata brava a nasconderlo sicuramente qualche segnale te l'ha dato e tu magari non l'hai visto o voluto vedere gli uomini non è che brillino in arguzia quando si tratta di riconoscere i segnali emotivi altrui perché questa è più una caratteristica delle donne però quindi non ti sentire sbagliato ma renditi conto di questo effetto si rompe l'incanto e passa la magia e magari una persona che ti piaceva tanto poi la trovi insignificante e questo succede anche alle donne se lei chiude dopo qualche settimana o mese di frequentazione e ti propone di restare amici è altamente possibile che si sia verificato questo fenomeno di illusione prima e disillusione poi infatti imparare a riconoscere i segnali di una relazione sbagliata o tossica fin dall'inizio è fondamentale quindi ti metto qui sopra e anche qui sotto in descrizione un video molto utile che ti indica questi aspetti di relazione tossica ovviamente se invece lei ti ha detto che vuole rimanere tua amica dopo una relazione lunga convivenza ma di anni significa semplicemente che ha perso o l'eros o l'amore o tutti e due magari ti vuole anche bene però non è più innamorata quindi cosa fare per risolvere dal mio punto di vista quando una donna si allontana inseguirla per cercare di farle cambiare idea è inutile e controproducente quindi ti dico l'unica cosa che puoi fare se vuoi recuperare allontanati completamente non sentirla sparisci il più possibile però fai un percorso di miglioramento personale cresci correggi quei comportamenti che allontanano le donne e le persone da te poi nel caso ripresentati a lei dopo qualche mese come una persona nuova non è detto che funzioni però è la chance migliore che hai e tutte le altre azioni non ti portano assolutamente a niente o al massimo un breve ritorno che poi ovviamente la porterà a riallontanarsi di nuovo e per sempre io comunque ti sconsiglio caldamente di insistere con le persone che non ti vogliono e invece ti consiglio di investire tempo ed energie con persone che dimostrano di tenerci a te ovviamente questo puoi farlo solo se sei tu il primo che tiene davvero a sé e ricordati un'ultima cosa il fatto che la donna si senta libera di decidere se le piaci o meno e che te lo manifesti che ti faccia capire che non ti vuole come partner non è una cosa brutta è un processo sano perché lei è libera di metterci il tempo che desidera per fare le sue valutazioni se vuole anche mezzo minuto e non state a decidere quanto tempo debba passare prima che lei capisca se ti vuole o no e chiaramente lei si prende la responsabilità di fare eventualmente la valutazione affrettata e subirne le conseguenze ma è la sua vita e non deve chiedere il permesso a te o ad altri per capire se una persona le piace o no e se vuole aprire o chiudere una conoscenza ovviamente sono d'accordo con te sarebbe il caso che lo comunicasse chiaramente evitando magari di sparire nel nulla senza dire niente o peggio di fare il tira e molla per un sacco di tempo però in conclusione l'importante è che alla fine lei e anche tu segua ciò che senta e se il suo sentire la porta lontano da te va bene così perché tu non la vuoi una donna che non ti vuole giusto se ti è piaciuto questo video iscriviti al canale se non sei già iscritto e clicca sulla campanella per attivare le notifiche in modo da ricevere i nuovi video pubblicati condividi anche questo video con tutti gli amici che pensi che possono essere interessati a questi contenuti ti ricordo che questi video sono estratti da delle dirette facebook che sono contenute all'interno del mio gruppo vero uomo crescita personale e relazionale inoltre ti ricordo che nel mio store al link www.verouomo.it store trovi tutti dei percorsi dei video audiolibri video corsi e un sacco di contenuti che possono aiutare a migliorare a crescere ad avere delle relazioni più belle sane e soddisfacenti ti aspetto all'interno dei miei canali ciao 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 ciao